Quindi praticamente cosa è successo? Niente, io ho tirato sul telecoma come sempre, ho detto in cui ho viti, ci presentiamo sempre, una voce maschile ha detto c'è una bomba nell'edificio, scandendo bene le parole, quindi non mi sento sempre di accento, è messo giù. Però io ho visto il numero di stile visore, quindi lo sono segnato e l'ho comunicata a me. Avete avuto paura agli unici, immagino, subito? Ma sì, veramente perché altro è un po' scritto, non sappiamo se si prendeva come uno scherzo, però insomma, giustamente è meglio la prudenza, quindi siamo tutti, tutti tutti e... La voce aveva un accento particolare? No, no, anzi è proprio scandito bene le parole, secondo me apposta per non far capire alcun tipo di accento. Però ho detto solo questo, c'è una bomba nell'edificio.